Diciamo che è una frazione molto isolata e che sinceramente vedo che ha molto bisogno di attenzione della nostra amministrazione. Chiedo in poche parole di rintracciare questa attenzione, di questa attenzione da questa amministrazione che secondo me è molto silente e sinceramente con gli occhi chiusi quasi zero servizi per questo paese. Quindi a un certo punto sarebbe meglio che si facessero bene, che si facessero sentire perché ne abbiamo veramente bisogno. Pozzuolo, un piccolo borgo e castello abitato da una trentina di anime arroccato su di una colina sopra serrungherina o raccogli al metauro a 325 metri sul livello del mare. Un fazzoletto, una bomboniera di pace e tranquillità dove si è avvolti da un panorama mozzafiato. Non a caso meta, da quando si è aperta una struttura ricettiva, diamanti della quiete. Ma oltre a questo l'ascoltatore che ci ha contattato ritiene che alcune cose vadano migliorate o sfruttate meglio. Lamentando un vuoto, una mancanza istituzionale che a suo dire, crea un isolamento di Pozzuolo dalle ottiche di investimento che la nuova amministrazione sta pianificando, escludendo però da questo appunto il piccolo borgo. C'è dire che qui bisogna prendere la macchina per differenziare una bottiglia, un sacchetto, una cosa, bisogna prendere la macchina e fare 800, quasi un chilometro e portarla nella zona più vicina. È veramente un'assurdità. Aguzzi aveva dichiarato in un articolo, tu ce l'hai portato, che avrebbe investito sul territorio ma si è scordato di Pozzuolo. Questo è l'articolo che lui fece qualche mese dopo la sua entrata in carica, la sua elezione. Ecco, qui parla che a stanzia 400 mila euro per l'opera pubblica, però purtroppo non c'è Pozzuolo e a noi ci dispiace. E bisogna andare a trovare i piccoli paesi come i nostri che sono sperduti e poco serviti. Ad onore del vero va detto che alcuni paesani, accortisi delle nostre telecamere, ci sono venuti incontro e ci hanno detto che, sollecitati da una comunicazione congiunta e collettiva che elencava le criticità del paese che è stata inviata al comune, amministratore e sindaco Aguzzi hanno effettuato un sopraluogo proprio nei punti critici evidenziati dal collettivo.